In Abruzzo dall'inizio dell'emergenza sono stati registrati 1.345 casi positivi al Covid-19 diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara anche attraverso l'istituto zooprofilattico di Teramo. Rispetto a ieri si registra un aumento di 52 casi, 322 pazienti sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, di cui 75 in provincia di Teramo, 69 in terapia intensiva, 10 in provincia di Teramo, mentre gli altri 778 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL 50 in provincia dell'Aquila, 145 in provincia di Chieti, 339 in provincia di Pescara e 244 in provincia di Teramo. Alle 16.30 di questo pomeriggio alla ASL di Teramo i pazienti ricoverati positivi al Covid-19 sono 102 così distribuiti, 23 all'ospedale di Teramo, di cui 5 in rianimazione e 79 all'ospedale di Atri, di cui 7 in rianimazione. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 102 pazienti deceduti. Tra la serata di ieri e la giornata di oggi, in provincia di Teramo sono decedute 3 persone. Una donna di 58 anni, residente a Castellalto, ricoverata ad Atri. Una donna di 62 anni, residente a Montegiberto, in provincia di Fermo, è ricoverata a Teramo. Un uomo di 88 anni, residente a Castiglione Messerraimondo, ricoverato ad Atri. 67 i pazienti clinicamente guariti, che da sintomatici con manifestazioni cliniche associati al Covid-19, sono diventati asintomatici. 7 guariti, che hanno cioè risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 7.948 test, di cui 4.904 sono risultati negativi. Del totale dei casi positivi, 115 si riferiscono alla Asla Vezzano Sulmona L'Aquila, 273 alla Asla Lanciano Vasto Chieti, 594 alla Asla di Pescara e 363 alla Asla di Teramo. Dei 52 casi positivi al Covid-19 registrati oggi, 14 fanno riferimento alla Asla Vezzano Sulmona L'Aquila, 7 alla Asla Lanciano Vasto Chieti, 18 alla Asla di Pescara e 13 alla Asla di Teramo.